c'era chug chug tommy gane arco l'arco mi sa che fa schifo anche se ho preso le mk7 quello vecchio che non mi piace per niente e rispetto all'eree nuovo c'è un boh onestamente meglio allora un bel medico tipo un strike minchia il pompa nuovo oro pure poi l'assalto nuovo viola poi vuoi qualcos'altro sicuro vogliono entrare madonna amori miei non si fotte con il charge mother trackers mamma mia il charge welcome to the twisted free line io avvicino la cacca ma vieni già verso la cacca non ti preoccupare ce l'ho io c'ho mille passa ho uno da me ok knock volevi fregarmi la cacca volevi fregarmi la cacchina ok one tappa 205 in bocca io ho fatto questo quindi one tappa veramente oh mio dio è morto uno fuori zona non so come mai però gigino il chilling il charge ragazzi non mente mai qua c'è una cacca c'è una cacca prendila prendila che c'ho una slurp sola oh my god il charge ragazzi non mente mai giù 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 che mi ti permetti da sopra l'isola si 28 27 in testa spara ancora dai come on baby spara tesette crack dai adesso cadere l'albero e lo nocco guarda chiaramente chi mi spara perché sparano e poi si nascondono come mia zia quando vede gg in fase in case nese in puse l'ho preso medico l'ho preso medico ok ah quindi non l'avevano nemmeno preso questi vabbè gg ok cerco di tenere like se sono parti del surf tengo like tranquilla o like quasi non accadono arrivo 97 22 crackato però è là sopra con la slurp mi sa qui sopra arrivo da te ma stanno andando alla cacca si era sotto dalla cache muore 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 l'altro è là sopra chicca posso andare se vuoi dove? ah là sopra ok si l'ho visto vi faccio un attimo una surf sei sola è andato con il safe ok 31 17 il finish purtroppo non lo vedo volevo le cure ma niente sto arrivando e sono lontano ancora attenta si è che mi sacano il pompa forte mi ha fatto un danno staranno quello là è in sto scappando non è entrato neanche un colpo 39 52 vado è salito è morto è morto mi è arrivata la kill mi è arrivata la kill ah no 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 scusami è il mio finish perdonami bad call 36 blu e con la slurp in canna lì c'è un altro team però attenta occhi aperti 55 crack di nuovo questo qua va finito fintati questo qua va finito ci darà problemi dopo vado d'osso vai morto salve gli altri erano qua eh che cure hai? quante? tre posso averne una gentilmente già lo sa ah c'è chi non ha defianti? vieni ha chiamato la slurp eh qua però ho uno slot libero ma che se ne prega aia ma mi ha mandato via con il cannone mi aiuto caccato uno questo qua questo qua sotto vado a me 43 all'altro mi sa white ok fatto bravissima god game questa raga se lo vinciamo è god game eh hanno il cecchino questo è un problema tecnico dove sono di precedenza? eh la di fronte la di fronte vedi c'è il raggio mi servirebbe che tu no 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 non puoi volare ti fanno ti fanno ti fanno ti fanno 100% ok siamo 2v2 lo so eh il raggio perché? forse per ruotare l'hanno fatto sai e per piccarli 38 blu io posso ruotare col razzo anche alla fine però ho disegno del dirassivo mentre loro ruotano mentre tu spari dobbiamo andare verso verso destra già adesso secondo me prima che lo facciano loro allora non ho il razzo però devi buildarti eh quanto ci metto un sacco a caricare quel cecchino? sono con la zipline craccato? oh mio dio! ok da fare mi slurpa? vai slurpati lui è distratto da me se vuoi ruotare pam 50 vai kick parta 5 craccato? ti puscia madonna ragazzi ma che tracking gli ho fatto a quello quello sta nell'altro server l'ho portato in season 1 capitolo 1 craccato? oh mio dio! hai messo l'ombrellino? eh facciamo prendere l'ombrellino a Giorgina madonna raga che game che vi ho tirato allora comunque il charge rimarrà sempre il mio amore il charge shotgun è e sarà sempre il mio amore più 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 bello più strong cioè nulla da dire nulla da fare e nulla da comunicare gg che ci portiamo un'altra win a casa gu 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 direi che era abbastanza scontato no? qua ha fatto il mega claccettino di quelli avete già capito sì questo è il numero della win brando è molto bello è tipo psichedelico strano molto figo sono belli anche i colori mi piace mi piace mofto mi piace mofto molto bello bella win mi piace voto 10 grazie a tutti Grazie a tutti